stand nintendo alle 3 di los angeles siamo come potete vedere di fronte alle postazioni di gioco di una delle più attese esclusive per 3ds e wii u super smash bros arriverà infatti su entrambe le piattaforme noi l'abbiamo potuto provare e le impressioni sono più che positive il gioco sembra in buona sostanza una versione modificata riveduta e corretta di quel grande capolavoro che uscì all'epoca su gamecube la vicinanza con quelle dinamiche si intuisce anche dal fatto che quasi tutte le postazioni di gioco disponibili sulla home console sono equipaggiate proprio di un pad gamecube che sarà rilasciato anche in una nuova versione in bicromia compatibile con wii u a livello di gameplay il titolo è come sempre un brawler game frenetico in cui quattro giocatori se le danno di santa ragione in questa versione giocabile ci sono 20 personaggi e già si distinguono tutti per un move set molto ispirato e molto caratteristico che influisce in maniera veramente importante sull'approccio agli scontri anche le sono ben caratterizzate e come sempre rappresentano un elemento importantissimo nell'economia di gioco il gameplay del titolo ci è sembrato rispetto alla già citata versione gamecube un po' veloce ma i personaggi sono adesso un po' più ancorati a terra e il gioco aereo deve essere affrontato con moltissima attenzione nel corso della conferenza nintendo la software house ha annunciato anche l'arrivo di un nuovo personaggio ovvero dei me che potranno essere usati in tre combinazioni e sarà quindi come avere tre lottatori diversi confermate anche un sacco di modalità in single player e in multiplayer e quindi non vediamo l'ora di poter mettere le mani su una versione definitiva di super smash bros uno dei titoli che assieme a recente mario kart 8 rilancerà il wii u in una nuova stagione fatta di grandi esclusive e bellissimi capolavori e 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